Sì, buongiorno Michela, buongiorno ai nostri telespettatori di Cremona 1, siamo qui in piazza Don Mazzolari, alle mie spalle la vedete la chiesa parrocchiale di San Pietro che questa mattina assieme a tutta la comunità di Bozzola, tutta la diocese di Cremona, ma come il vescovo Antonio Napoleoni ha spiegato come tutta la chiesa italiana ha vissuto davvero un momento storico. La visita di un pontefice, la visita di Papa Francesco che è atterrato a Bozzola alle 8.56, leggero anticipo su quella che era un po' la tabella di marcia, è ripartito attorno alle 10.30, quindi rispettando direi in pieno quelli che erano un po' i tempi, anche se vogliamo abbastanza ristretti, di quella che era sì una visita privata dove però non è mancato l'atteso ovviamente bagno di folla. Papa Francesco ha salutato in particolare i fedeli sporgendo di fatto una mano in forma di saluto dal finestrino dell'auto che non era la cosiddetta Papa Mobile, quella scoperta che utilizza di solito, era una macchina chiusa ma comunque questo gesto del braccio, della mano che salutava era appunto una forma di contatto con i fedeli che osannavano proprio il passaggio del pontefice. E poi ci sono stati non uno ma due fuori programma, il primo era per così dire atteso ed è stato il secondo in ordine cronologico, cioè Papa Francesco dopo la visita in chiesa, dopo il discorso in chiesa e la visita anche alla canonica che fu di Don Primo Mazzolari ha voluto salutare di fatto i fedeli con la recita di un Ave Maria e poi una benedizione particolare. Il primo momento invece fuori programma diciamo così è stato il saluto che Papa Francesco ha voluto fare appena arrivato non solo ai ragazzini del Grest che lo attendevano, 150 circa del Grest di Bozzolo ma anche a tutti i fedeli di fatto della zona appunto che si trovano qui sul Sagrato dispensando carezze, sorrisi, anche qualche foto perché c'è stato anche qualche selfie, qualcuno che ha appunto chiesto questo favore diciamo così al Papa e il Papa lo ha assolutamente concesso. Però in questa giornata festosa, se vogliamo anche chiassosa in senso positivo ha colpito in particolare un dato, un aspetto, il silenzio, il silenzio quasi irreale della chiesa, della piazza, di tutta la comunità che era radunata non solo in chiesa sulla piazza come ho detto ma anche davanti ai vari maxischermi, tre in tutto quelli messi in paese, il silenzio durante la preghiera del Papa sulla tomba di Don Primo Mazzolari. Un omaggio che la chiesa di Roma e il pontefice ha voluto fare alla tromba dello Spirito Santo in Val Padana. E a proposito di Don Primo Mazzolari va detto che sono stati donati dalla fondazione Don Mazzolari al Papa alcuni suoi scritti, in particolare un messaggio, un messaggio siate grandi che Don Mazzolari pronunciò ai neoeletti nel giugno del 48, neoeletti parlamentari nelle file della DC, siate grandi come la povertà di fatto nella quale che rappresentate, che andrete a rappresentare quindi un invito a non arricchirsi, un invito appunto a pensare a chi era più povero. E proprio sulla povertà ha insistito molto anche il discorso di Papa Francesco che ha citato a più riprese Don Mazzolari e che è stato molto concreto, sorprendendo in questo va detto anche il Vescovo Napoleoni e Don Bruno Bigliami della fondazione Don Mazzolari, perché ha citato tre aspetti, tre elementi potremmo dire quasi naturali, comunque caratteristici della nostra zona, ovvero il fiume, la cascina e la pianura. E quindi un discorso molto concreto perché come Papa Francesco ha spiegato e come lo stesso Vescovo Napoleoni ha poi ripetuto, la Chiesa non può vivere al di fuori della realtà, al di fuori della grande concretezza col suo messaggio. Quindi conta quasi più l'esempio, diciamo così, di tanti discorsi. Questo è il messaggio finale di una giornata che Bozzolo e la diocese di Cremona indubbiamente non potranno dimenticare. A te la linea Michela.